Musica Ciao Guido, ieri hai sostenuto il tuo esame del Master Formatori e hai presentato di fronte a un pubblico la tua tesi, il tuo lavoro. Quali sono state le emozioni che hai provato nel presentare per la prima volta davanti a un pubblico un tuo lavoro? Ansia, ansia, ansia. E oltre all'ansia? Un senso di liberazione alla fine. Un senso di liberazione alla fine. Hai assistito anche alle presentazioni dei tuoi colleghi del Master. Cosa ne pensi? Delle loro performance? Dei colleghi bravissimi, preparatissimi, dei buoni relatori, bravi relatori anche in aula. Senti Guido, è passato un anno da quando hai iniziato il percorso con noi del Master Formatori. A chi ti sentiresti di proporre e di suggerire questo percorso? A tutte quelle persone che vogliono crescere sia nell'ambito lavorativo ma anche nell'ambito personale. Perché è proprio un percorso con dei valori universali. Guido, hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato il percorso ad oggi in te e nei tuoi colleghi? Un'esagerazione, dal giorno alla notte. Dal giorno alla notte. Senti, quali sono i motivi per cui suggeriresti questo percorso alle persone? Qualità, professionalità e preparazione dei formatori, dei trainer. Ti ringrazio Guido, è stato un piacere e benvenuto a bordo. Grazie.